Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Siamo di nuovo qui alla Bolaffi, che è una storica società di collezionismo con sede a Torino, fondata nel 1890, che anche questo mese ci ha aperto le porte del suo negozio, questo, e dei suoi tesori per parlare di un argomento molto particolare, cioè lo stretto rapporto che si è creato durante il ventennio tra il fascismo, l'aviazione e ovviamente la propaganda. Quello che vedete alle mie spalle, che è un manifesto e allo stesso tempo è un simbolo di un'epoca, racconta di un viaggio, quello fatto da idrovolanti guidati da Italo Balbo tra l'Italia e il Brasile, un viaggio che anticipa quello molto più noto, fatto invece tra l'Italia e gli Stati Uniti, Italia e Chicago di lì a poco, che fu sfruttato dalla propaganda e divenne veramente un simbolo. Ma quando iniziò questo rapporto? Quando fascismo e aviazione iniziarono ad essere connessi l'uno all'altro e il fascismo iniziò a sfruttare l'aviazione per i suoi fini? Beh, è quello di cui parliamo oggi, nella peristoria. Sigla e iniziamo a raccontare. La prima domanda ovviamente è quando questo legame tra fascismo e aviazione si venne a creare e la risposta è che si creò ancora prima che il fascismo salisse al potere. Mussolini in effetti quando ancora era un giornalista, direttore di giornale e già si era staccato dal partito socialista per le sue posizioni interventiste, aveva capito quanto l'aviazione facesse presa sul popolo italiano. In realtà lo avevano capito in tanti, anche perché l'aviazione durante la prima guerra mondiale divenne soprattutto negli ultimi anni uno dei principali temi della propaganda di guerra. Questo per due motivi. Primo perché era un'arma molto molto moderna, è scorretto dire che l'aviazione da guerra nacque durante la prima guerra mondiale, perché gli aerei vennero già utilizzati in azioni di guerra, ad esempio nella guerra italo-turca, ma è vero invece che l'uso moderno dell'aviazione nacque proprio in quegli anni, aumentarono i numeri, aumentarono i numeri delle operazioni, quelli degli aerei, dei piloti e tutto questo ovviamente aveva una grossa presa, perché rappresentava la modernità sempre in crescita. Il secondo punto era che negli ultimi anni di guerra la propaganda non poteva più basarsi solo sul sacrificio nelle trincee per difendere la patria, perché man mano che i morti aumentavano, man mano che si raccontava quello che realmente succedeva nelle trincee, la presa era sempre minore. Mentre invece questi aerei, questi piloti, spesso nobili, spesso provenienti dalla cavalleria, che lottavano nel cielo quasi come fossero dei antichi cavalieri medievali, quello continuava ad avere una grossa presa e nei giornali dell'epoca veniva ampiamente utilizzato. Mussolini fece la stessa cosa. Nel suo giornale diede grosso spazio proprio all'impresa degli aviatori, diede grosso spazio alle storie di guerra e iniziò a dare dal 1918-19 anche sempre più spazio al malcontento degli aviatori dopo la fine della prima guerra mondiale. In effetti l'aviazione, così come le altre armi, alla fine della guerra iniziò ad essere ridotta nei numeri. Era una cosa normale che successe in tutti i paesi che erano stati in conflitto, paesi che ora avevano bisogno di riconvertire la propria economia ad una normale economia di pace e che soprattutto avevano bisogno di ridurre i costi enormi che avevano pagato durante la guerra. Nel caso dell'aviazione questo fu probabilmente ancora più visibile perché, dati le scarse richieste da parte dell'esercito e della marina, all'epoca non esisteva un'arma separata per l'aviazione, nascerà solo nel maggio del 1923, quest'anno sono appunto cent'anni. Bene, a causa di quelle richieste decisamente basse, il governo decise di fare un ricambio generazionale, potremmo dire, di aere a disposizione, andando ad eliminare buona parte degli aerei più vecchi che ancora erano presenti nei depositi o addirittura venivano utilizzati dai reparti. Aerei che o vennero dismessi o talvolta vennero addirittura venduti all'estero con alcuni dei più grandi assi italiani che vennero mandati in vari paesi per cercare di vendere questi aerei. Ad esempio ne vennero venduti all'Argentina. Questo, all'inizio degli anni venti, sarà molto sfruttato da Mussolini, che addirittura aprirà un giornale legato proprio all'aviazione, la cosiddetta Gazzetta dell'aviazione, la quale parlerà dell'arma aerea e continuerà a farlo, pensate, per tutto il ventennio fino sostanzialmente alla fine della Seconda Guerra Mondiale e alla caduta del regime. Bene, quel giornale divenne la gran cassa di coloro che dicevano che l'aviazione aveva necessità di mantenere numeri più alti. Una gran cassa che poi passerà, ovviamente, anche ai comizi politici, con lo stesso Mussolini che inizierà a sparare numeri sempre più alti, parlando di 5, 6, 10 mila aerei a disposizione dell'Italia nel 1918, ridotti a 400, 300, 200, qualcuno diceva addirittura 50 aerei funzionanti nel 1920. Sono numeri assolutamente non realistici, sono numeri da propaganda politica che però ci fanno capire quanto questo fosse importante. E, di fatti, attirati da queste promesse, molti piloti si regarono proprio al nascente movimento fascista. L'altro grande strumento di propaganda, oltre ai giornali dell'epoca, che so che peraltro molti collezionano, l'altro grosso strumento di propaganda del legame tra fascismo e aviazione era Mussolini stesso. Mussolini che, fin dall'inizio degli anni 20, iniziò a mostrarsi sempre più spesso nelle immagini, nei cinegiornali, nelle foto che finivano sui giornali, vicino a degli aerei. Che fosse per utilizzarli per spostarsi, all'epoca non era una cosa così comune, anche perché gli aerei subivano un numero di incidenti ben più alto rispetto ad oggi, o che fosse per addirittura pilotarli direttamente, il legame tra Mussolini e l'aviazione divenne molto stretto. E l'immagine di Mussolini vestito da aviatore con il cappello e gli occhialoni divenne diffusa tanto quanto altre immagini celeberime, come ad esempio quello di Mussolini che trebbia il grano. E quindi circolavano poster, circolava materiale propagandistico e tutto questo serviva a propagandare l'immagine di un duce moderno e al tempo stesso molto coraggioso. Mussolini non sappiamo effettivamente se poi pilotasse veramente quegli aerei, anche perché bisogna dire che la maggior parte delle immagini che circolano lo vedono entrare negli aerei, più spesso scenderne con un piccolo saltello molto molto agile, oppure dagli anni trenta in poi, quando inizia a mostrarsi più spesso ai comandi, non tanto dal lato dell'aereo da cui si comanda, cioè dal lato sinistro quando gli aerei avevano i doppi comandi, ma invece dal lato destro, che di solito è quello del copilota. In effetti però giravano varie storie sull'idea di Mussolini aviatore. Ad esempio si raccontava che in effetti Mussolini avesse preso delle lezioni, ma che non fosse riuscito a conseguire il brevetto perché diventato capo del governo e che addirittura nel 1921 avesse portato in solitario un aereo tra Milano e Verona, con l'istruttore a fianco che però aveva lasciato fare tutto a lui. Addirittura si raccontava che una volta Mussolini, pilotando un aereo del 1920 o 21, fosse caduto e quest'aereo, ovviamente non per un errore suo ma per un problema legato al motore, era caduto al suolo e Mussolini, nonostante fosse ferito, un taglio alla testa, un'ecchimosia, un occhio, un ginocchio gonfio, non solo aveva aiutato a trarre fuori dall'aereo i suoi compagni, ma poi aveva continuato a lavorare come se nulla fosse. Capite che sono tutti argomenti di propaganda tipici del fascismo che volevano l'uomo macio, l'uomo forte, che non si fa fermare da nessun problema. C'è una curiosità, nel 1934, ad un'esposizione dell'aviazione italiana, venne presentato l'aereo che Mussolini pilotava nel momento in cui era precipitato. Aereo che venne presentato ovviamente danneggiato, crollato su un fianco, ma è oggettivamente difficile credere che in 15 anni nessuno lo avesse né riparato o demolito. Evidentemente era un'operazione di propaganda, si pensa che sia stato preso un aereo simile, siano stati dipinti i numeri di serie corretti e sia stato danneggiato per farlo sembrare proprio quello. Però anche questo appunto è un indice. Inutile dire che tutto questo ovviamente non bastava alla propaganda, perché ad un certo punto fu necessario iniziare a glorificare, anzi fu probabilmente l'argomento principale, quelle che erano le imprese degli aviatori professionisti. La cosa, anche in questo caso, era iniziata prima ancora che il fascismo salisse al potere, perché nel 1919 era stato organizzato il cosiddetto Raid Roma-Tokio, cioè un attraversamento letteralmente dell'Eurasia fatto in aereo, non in un'unica tirata ma in una lunga serie di tappe, che sarà molto pubblicizzato dalla Gazzetta dell'Aviazione e che vedrà Mussolini cercare di farsi imbarcare come giornalista. La cosa non riuscì, non venne portato sugli aerei, ma Mussolini continuerà a dire ovviamente di aver cercato in tutti i modi di partecipare, vero o falso che fosse. Quando poi nel 1922 Mussolini salì al potere, un altro strumento di propaganda si andò ad aggiungere alle sue armi, cioè i francobolli. Ora i francobolli erano uno strumento di propaganda fantastico all'epoca, perché costavano poco, erano diffusissimi, raggiungevano praticamente tutti gli strati della popolazione, perché chi più chi meno si trovava almeno una volta nella vita a dover mandare una lettera o un pacco o quant'altro tramite posta, ed erano uno strumento che poteva servire, pure così piccolo, a glorificare la grandezza del regime e ad un certo punto iniziò ad essere legato anche all'aviazione. Vennero emessi i francobolli per particolari aerei, per particolari sviluppi tecnologici, vennero emessi i francobolli per grandi eventi legati all'aviazione, come mostre internazionali tenute in Italia, e questo ovviamente era poi il punto invece cardine, vennero emessi i francobolli per le grandi imprese aviatorie, che ovviamente glorificando le imprese servivano a glorificare il regime. C'è una storia molto curiosa legata a questo, è legata anche ad uno dei primi grandi transvolatori italiani, Francesco De Pinedo, un uomo che alla fine degli anni venti era famosissimo, probabilmente l'aviatore italiano più noto insieme ad Italo Balbo, ma che oggi purtroppo è stato progressivamente dimenticato, magari in futuro lo riprenderemo con qualche pillola. Bene, De Pinedo è stato il primo in qualche modo a legare il suo nome ad un francobollo, francobollo peraltro oggi molto ricercato, francobollo che però curiosamente non venne emesso dall'Italia, ma da uno stato estero, cioè da Terranova. La storia è particolare, De Pinedo era napoletano di origine, aveva imparato a pilotare durante la prima guerra mondiale e fin dall'inizio degli anni venti aveva iniziato ad organizzare delle grandi transvolate usando degli idrovolanti. All'epoca gli idrovolanti erano la base per queste operazioni, perché le piste di atterraggio erano poche in tutto il mondo e utilizzare degli idrovolanti che ovviamente potevano atterrare, ammarare in mare e da lì ripartire rendeva molto più facile organizzare le varie tappe. Bene, De Pinedo nel 1925 organizzò un ride che dall'Italia lo portò fino a Melbourne, da qui a Tokyo e poi ritorno. E nel 1927 organizzò una seconda spedizione che inizialmente avrebbe dovuto fargli toccare cinque continenti e tutti e tra gli oceani, ma che poi per volontà di Mussolini, che comprese quanto avrebbe potuto spingere maggiormente sul tasso della propaganda, decise di trasformare in un viaggio andata e ritorno tra l'Europa e le Americhe, attraversando letteralmente tutta l'America. Nel 1927 Pinedo iniziò il suo viaggio, partì dalla Sardegna, raggiunse l'Africa occidentale a Capoverde, da qui fece il salto fino in Brasile e poi risalì verso nord, attraverso l'America centrale, gli Stati Uniti e quindi il Canada. Quando si trovava a Terranova, e vi dico che il suo non fu un viaggio particolarmente facile, anzi addirittura a un certo punto gli prese fuoco l'aereo, non per un errore suo, ma per quello di un meccanico e fu necessario fargli arrivare un altro aereo dall'Italia. Quando però, dicevo, il suo viaggio raggiunse Terranova, sostanzialmente era arrivato al termine, mancava l'ultima grande traversata verso l'Europa e poi sarebbe arrivato. Bene, a Terranova decisero di caricare sull'aereo della posta. Era una cosa abbastanza comune durante queste traversate, perché serviva a dimostrare come gli aerei non dovessero solo compiere grandi imprese, ma potessero essere utilizzati anche per scopi molto più pratici, come ad esempio quello di trasportare la posta da un continente all'altro. Per poter affrancare quelle lettere, a Terranova si è deciso di utilizzare dei francobolli già stampati, non fatti per l'occasione del 1897, su cui venne apposta una piccola sovrascritta che indicava proprio che erano legati al viaggio di Depinedo e che venivano utilizzati per le lettere che lui avrebbe portato. Bene, quei francobolli, che oggi sono rarissimi, assolutamente rarissimi, ce ne sono solo 225 che furono utilizzati per affrancare delle lettere e altri 75 che non vennero utilizzati ma che erano disponibili, bene, quei francobolli fin da subito diventero un oggetto ricercatissimo per i collezionisti, perché lo stesso Depinedo una volta arrivato in Italia e distribuendo quelli che aveva a disposizione fu costretto ad ammettere di non averne abbastanza per tutte le richieste che aveva ricevuto. Per questo la macchina di propaganda del regime capì quanto creare dei francobolli appositi per l'occasione potesse servire a far diffondere ancora di più la notizia di quello che stava avvenendo. C'è un francobollo molto particolare in tal senso che è il cosiddetto trittico del decennale. A tutti gli effetti si tratta di due trittici, un trittico perché è composto da tre parti, lo state vedendo nelle immagini che passano a fianco, e che venne messo in due forme diverse, con i colori invertiti, immagini diverse. Bene, questo trittico del decennale è legato a quella che probabilmente è la più grande impresa aviatoria compiuta durante il ventennio, cioè la cosiddetta crociera del decennale, fatta da Italo Balbo dall'Italia agli Stati Uniti. Ora, uno potrebbe dire cosa aveva di particolare questa crociera, dopo tutto Depinedo aveva già fatto un viaggio molto più importante, molto più lungo. Bene, la differenza è che se quella di Depinedo nel 1927 era un'impresa singola fatta da un aviatore e dai suoi compagni su un singolo aereo, nel caso di Italo Balbo invece si trattava di un'impresa di gruppo, nata per celebrare i dieci anni dalla fondazione della regge aeronautica nel 1923, un'impresa che sarebbe stata fatta da ben 25 idrovolanti, che quindi non avrebbe tanto rappresentato appunto la bravura di un singolo pilota, quanto la qualità dell'intera aviazione italiana e soprattutto la qualità degli aerei che le sue industrie sfornavano e quindi, ovviamente di riflesso, la qualità dell'organizzazione economica dello Stato italiano e quindi del regime. Bene, il tritico del decennale è legato sotto vari aspetti a quest'impresa e potremmo dire che in qualche modo è un vero e proprio testimone dell'impresa in sé. Innanzitutto perché fu prodotto stampato prima che gli aviatori partissero e venne utilizzato, la vendita dei francobolli venne utilizzata per finanziare l'impresa stessa e quindi in qualche modo la favorì. Il secondo punto è che ovviamente questi francobolli avevano una valenza di propaganda, una valenza di propaganda che venne in qualche modo accentuata ponendo sopra di loro una piccola sovrascritta che andava ad indicare uno dei 20 idrovolanti o meglio 20 dei 25 idrovolanti che avrebbero preso parte all'impresa, che venivano indicati da una sigla in cui erano presenti le prime lettere del nome del pilota, perché solo 20 su 25, perché il foglio di stampa dei francobolli ne conteneva 20 e quindi non si poteva fare diversamente. E quindi in qualche modo serviva anche a diffondere il nome dei piloti che partecipavano all'impresa. E poi c'è il terzo punto, che forse è il più importante, perché quei francobolli vennero a tutti gli effetti utilizzati per affrancare le buste che compirono il viaggio fino agli Stati Uniti. Viaggio che fu un successo strepitoso. Italo Balbo e i suoi arrivarono a Chicago dove si stava tenendo l'esposizione universale, atterrarono tra due ali di folla, vennero accolti dalle autorità addirittura avendo intitolata una strada, la Balbo Avenue, e tutto questo ebbe ripercussioni propagandistiche letteralmente in tutto il mondo. Bene, quei francobolli che affrancarono quelle lettere, quegli aerogrammi, e che oggi peraltro sono molto ricercati dai collezionisti, sono in qualche modo uno dei pochissimi testimoni rimasti di quegli avvenimenti, perché compirono veramente quel viaggio e poi iniziarono a finire nelle mani di tanti appassionati. Nella seconda metà degli anni 30 divenne però sempre più importante l'aspetto filmico, sotto due diverse, potremmo dire, derivazioni. La prima era quella realistica, non reale come tra poco vedremo, ma realistica legata ai cinegiornali, soprattutto poi ai cinegiornali di guerra, Etiopia, missioni in Spagna e poi seconda guerra mondiale. La seconda era invece quella filmica. Da questo secondo punto di vista di casi ce ne sono molti, anche premiati da film strettamente legati all'ambito aviatorio, come ad esempio L'Armata Azzurra, che curiosamente è il primo film in cui recitò Gino Cervi, che poi divenne molto più famoso per altri film, e invece quello che è probabilmente il più famoso film del ventennio legato in qualche modo all'aviazione, cioè Luciano Serra, pilota, del 1939, con Amedeo Nazari che vinse per quell'interpretazione una coppa volpi. In realtà, in questo caso, pur se molto famoso e anche dal nome legato all'aviazione, in questo caso la storia non è strettamente legata agli aerei, è una storia di un padre che si allontana da casa per cercare lavoro, padre pilota, si ritrova poi con il figlio durante la guerra d'Etiopia, entrambi appunto combattenti, ma ci sono delle scene che appunto rappresentano il volo. In qualche modo l'aviazione è per il protagonista Amedeo Nazari appunto uno strumento da una parte di lavoro dall'altra di elevazione sociale e il partecipare, il combattere e il volare gli permette peraltro anche di aiutare e di salvare il figlio. È ovvio che siano strumenti di propaganda che facevano grossa grossa presa anche dal punto di vista visivo e che venivano inseriti anche in questo genere di film. Niente che non si conosca in tempi anche più recenti. Top Gun, quando uscì negli Stati Uniti negli anni 80 fece schizzare alle stelle il numero di iscrizioni alle accademie aeronavali negli Stati Uniti, ma questo è abbastanza normale. Il secondo ramo dal punto di vista audiovisivo è invece quello ovviamente dei cinegiornali, cinegiornali di guerra ma anche civili. In effetti i cinegiornali già all'inizio degli anni 30 glorificavano l'aviazione, sia per grossi eventi come la crociera del decennale ad esempio, sia per glorificare i miglioramenti nell'aviazione civile. Con lo scoppio delle guerre però il numero di video legati all'argomento aviazione salì letteralmente alle stelle. Durante la guerra d'Etiopia, durante la spedizione in Spagna e poi appunto durante la seconda guerra mondiale. Andando a vedere questi cinegiornali si notano alcune cose. Innanzitutto che molto molto raramente, se non praticamente mai, vengono mostrati gli effetti causati dall'aviazione. Si fanno vedere i piloti che salgono a bordo, piloti sorridenti, meccanici che aggiustano gli aerei, si vedono gli aerei volare in formazione, mitraglieri disporsi in posizione, a volte anche sparare. Molto spesso ci sono delle riprese fatte dall'alto a inquadrare il terreno sotto di loro, famose ad esempio quelle su Malta o in Spagna, ma mai, praticamente mai, si vedono questi aerei attaccare. Da una parte perché molto spesso queste riprese sono finte, cioè non erano fatti realmente in momenti di guerra, ma erano fatti volutamente per essere riprese. Addirittura a volte ci sono delle scene che dovrebbero rappresentare attacchi verso aerei nemici durante la seconda guerra mondiale. Aerei che però non si vedono, l'attacco viene fatto in una maniera ben poco realistica, proprio per l'assenza di avversari e poi magari viene fatto scendere un manichino con un paracadute per far credere che il nemico sia stato abbattuto. Il secondo motivo era perché soprattutto quando si parlava di bombardamenti, far vedere gli effetti a terra sarebbero stati terribili. Pensate solo alla guerra d'Etiopia, ne abbiamo parlato in passato, quanto i bombardamenti a terra con gas e con bombe letteralmente devastavano, straziavano e provocavano morte nell'esercito, ma spesso anche tra la popolazione etiope. Ed è ovvio che questo era meglio non farlo vedere. Era molto meglio dare l'idea di un'aviazione che fosse qualcosa di intoccabile, di alto, di puro e di praticamente invincibile. Dopotutto sul ministero dell'aviazione Mussolini aveva voluto fare incidere una frase, cioè chi vola vale, chi non vola non vale, chi vale e non vola è un vile. È un gioco di parole che però ovviamente ci fa capire quanto l'aviazione venisse vista come qualcosa di importante e grazie a questa importanza qualcosa da diffondere e utilizzare per la propaganda di regime. Cosa rimane oggi di tutto questo? Beh, rimangono tantissimi oggetti, spesso collezionati proprio come rappresentanza di un tempo che non c'è più. Molti li avete visti passare durante il racconto, di questo ringrazio ancora tantissimo la Bolaffi che mi ha veramente aperto le porte dei suoi tesori e mi ha permesso di trovare anche immagini che non sono facili da reperire, quindi grazie mille non credo di essere riuscito a fare questa pillola senza il vostro aiuto. Tra questo rimangono ad esempio vecchi giornali, c'è chi li colleziona, rimangono giornali illustrati che hanno anche una duplice valenza come la famosissima Domenica del Corriere che so che di cui tantissimi sono appassionati, si vede molto spesso anche nei mercatini, in vendita in vari stati di conservazione, rimangono tantissimi francobolli, qualcuno lo abbiamo mostrato prima, alcuni anche parecchi orari legati a questi avvenimenti e rimangono ovviamente libri e tante altre pubblicazioni immagini. Credo che da qualche parte qualcuno abbia ancora quelle vecchie immagini proprio di Mussolini aviatore o dei gerarchi. E poi rimane un'idea, l'idea che la propaganda alla fine si nutra sempre delle stesse cose, si nutra di quel senso di superiorità che può dare l'idea che la nostra nazione sia più avanzata, abbia disposizione mezzi più moderni, mezzi più veloci, mezzi più potenti, mezzi meglio armati e piloti, soldati, marinai migliore rispetto agli altri. E ci dà anche un ricordo, cioè il fatto che questa propaganda a volte quando poi si scontra con la realtà, come è successo all'Italia nella seconda guerra mondiale, mostra tutti i suoi limiti. Che se passi vent'anni a raccontare cose non esattamente vere, quando poi ci si scontra appunto con quella realtà, quei limiti possono portare a delle crepe e far crollare tutto il castello. Io mi fermo qua, vi ringrazio tantissimo di avermi seguito in questo viaggio che è solo uno spunto perché poi si potrebbe fare una pillola su ognuno degli argomenti che abbiamo sfiorato e sono curioso di sapere da voi se anche voi avete degli oggetti legati al fascismo e all'aviazione. A presto, ci vediamo nella prossima puntata per parlare di storia e ci vediamo tra un mese per un prossimo viaggio nella storia degli oggetti aiutati da Bolaffi. A presto, ciao ciao!